E benvenuti in diretta uno mattina estate nuovamente sembra scomparso nel nulla il 32enne della provincia di Modena Adriano Pacifico di cui si sono perse le tracce in Francia mentre si dirigeva in bicicletta per il cammino di Santiago. L'ultimo contatto avuto dal giovane e padre di due bimbe piccole con la famiglia è stato oltre una settimana fa, poi più nulla, ci sono stati dei prelievi continui al Bancomat prima dell'esaurimento del credito, quanto bassa naturalmente per allarmare la famiglia e si cerca naturalmente questo giovane Adriano Pacifico. Colleghiamoci adesso che abbiamo Stefania Piscitello della gazzetta di Modena, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, che notizie abbiamo in merito anche perché sappiamo che inizialmente la polizia stentava anche a muoversi, sembra che adesso invece siano partite le indagini. Sì, esatto. La madre di Adriano, Grazia, ovviamente allarmata e preoccupata, venerdì è partita per il sud della Francia e la polizia inizialmente non le ha dato aiuto. Quindi si è attivata la Farnesina ieri, grazie anche all'intervento della Farnesina, Grazia è riuscita a depositare finalmente una denuncia formale per la scomparsa del figlio e quindi adesso partiranno le ricerche ufficialmente. La speranza della madre del ragazzo è di poter accedere alle immagini di videosorveglianza dello sportello Bancomat da cui risulta essere stato fatto l'ultimo prelievo e poi da lì partire. Però ha detto che le hanno riferito che sarà complicato e non sarà immediato. Grazie, grazie Stefania Piscitello, poi comunque ovviamente seguiremo la vicenda e la situazione. Adesso, ora cambiamo totalmente argomento e guardate queste immagini. La città eterna, sede di imperi celesti e mondani, crocevia di pellegrini provenienti da ogni dove, simbolo e modello di bellezza per il mondo intero, non ha mai fatto da sfondo a quanto di meglio l'umanità e i suoi popoli hanno da mettere in mostra. Probabilmente da questi presupposti, a settembre del 2021 è partita la candidatura di Roma ad ospitare l'esposizione universale del 2030. Ora che il dado è tratto, bisognerà aspettare ottobre del 2023, quando il Bureau International des Expositions di Parigi emetterà il verdetto su quale città ospiterà l'Expo del 2030. A concorrere con Roma, infatti, ci sono Mosca per la Russia, Odessa per l'Ucraina, Busan per la Corea del Sud e Riyadh per l'Arabia Saudita. La prima esposizione universale della storia è stata quella di Londra del 1851. Da allora, ospitare questi eventi che si svolgono ogni cinque anni, per un periodo di sei mesi, è un'opportunità molto ambita, sia per il prestigio a livello internazionale, sia perché sono ottime opportunità economiche di sviluppo. Le Expo, infatti, richiamano un gran numero di visitatori e comportano opere infrastrutturali che, una volta terminato l'evento, rimarranno a migliorare la vita dei cittadini. Ne sono un esempio la Torre Eiffel, costruita per l'Esposizione Universale di Parigi del 1889, oppure il Quartiere di Roma Eur, acronimo appunto di Esposizione Universale Roma. Vetrina neoclassica di un'esposizione che si sarebbe dovuta tenere nel 1942, ma che fu cancellata a causa dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Auguriamoci che questa volta vada meglio. La scheda di Massimiliano Bruni ci ha detto quanto sia importante per una città e per una nazione ospitare una esposizione universale. La candidatura di Roma per Expo 2030 potrebbe rappresentare un'occasione di crescita per l'intero paese e ovviamente per la città di Roma. Basti ricordare l'importanza per Expo Milano. E allora, ma perché sarebbe così importante averla qui nel 2030? Lo chiediamo a Livio Vanghetti, direttore comunicazione e partnership del comitato promotore Roma Expo 2030. Benvenuto. Grazie, buongiorno. Quindi è un momento estremamente fondamentale per Roma e per il paese e anche per tutti quanti noi. Le posso rispondermi con quello che ha risposto Carlo Verdone a questo, che ha detto che è un'occasione imperdibile. È un'occasione imperdibile anche per cambiare in meglio la faccia della città e gli schemi di partecipazione. Alla vita cittadina. Basti pensare, abbiamo fatto proprio come Expo un sondaggio per vedere qual è la popolarità di Expo tra gli italiani. E grazie all'Expo di Milano, bisogna dire la verità, si ha la percezione che sia uno strumento incredibile per cambiare anche le vite delle persone. Perché cambiando la struttura, quindi cambiando i territori, cambiando le comunità, quindi cambiando le persone che ci vivono, cambia anche proprio la percezione di tutto questo. Stiamo parlando di 30 milioni di visitatori in sei mesi, vuol dire 165 mila visitatori al giorno. Insomma, questa città è una città che vive anche di turismo e di traffico, per cui sappiamo che cosa vuol dire. Sì, le esposizioni sono una vetrina per il paese e poi è bellissimo visitare i vari padiglioni perché è come fare un viaggio nei vari paesi, nei vari stati. Penso all'Expo di Dubai che si è tenuto fino a pochi mesi fa. Giovedì prossimo si terranno gli stati generali a Roma, voluti dal sindaco Gualtieri, proprio guardando a Expo 2030. Come si terranno questi stati generali? Che cosa sono? In due parole. Prima di tutto il concetto degli stati generali è questo. Noi dobbiamo presentare un dossier di candidatura. Siamo molto avanzati in questo. Stiamo parlando di un plico complesso, 400 pagine rispetto alle 200 pagine. non che il numero di pagine sia un attestato di garanzia, però è importante. Un grande lavoro di analisi. L'idea degli stati generali, fortemente voluti dai promotori di Expo, quindi in primis il sindaco di Roma, è proprio quello di ascoltare la città per essere sicuri che riusciamo a mettere nel dossier di candidatura tutte le opportunità, ma riusciamo anche a capire quali sono le criticità che vanno in qualche modo trattate e questo deve venire dal basso, non deve venire semplicemente dall'alto. Anche perché questa è una città che dal basso è incredibilmente attiva. Se pensate a quello che è successo a Roma durante la pandemia, se pensate a quello che sta facendo Roma adesso, Roma in questo momento è una, se non la prima meta per il turismo internazionale. Molto più che prima della pandemia, ce lo dice tutti, ce lo dice il nostro scavo di fiumicino che è fantastico. E tutto questo è perché i romani e gli italiani la vivono. È una città amata non solo dai romani, ma dagli italiani. I romani generali hanno questa idea, hanno idea di dividere, di compartimentare in cinque tavoli, il tavolo del sociale, il tavolo dello sviluppo dell'innovazione e dell'università, il tavolo dell'informazione e dei media, il tavolo dell'urbanistica, e me ne dimentico uno perché me ne dimentico sempre uno, che sono cinque tavoli in cui le persone che abitano i luoghi daranno vita a questo, dicendo appunto quali sono le opportunità e le criticità, in maniera trasparente perché le criticità ci sono e Expo serve anche a sorpassare. Due tappe fondamentali, quella di prima di Barbara, la ragazza in dolci attesa, l'8 settembre dovrebbe nascere Arianna e il prossimo 7 settembre invece sarà l'ultima data per presentare i progetti per Expo 2030. Allora, Vanghetti, in che modo Roma arriverà a questa data e soprattutto quali sono le tappe previste in questi, diciamo, mesi e mezzo? In questo mese e mezzo le tappe previste sono di essere sicuri che abbiamo colto tutto quello che sta facendo il sistema Italia e non solo Roma, da adesso al 2030, perché noi dobbiamo presentare come sarà Roma e l'Italia nel 2030 e come Expo a Roma darà, diciamo, una marcia in più. Avete detto prima, l'Expo c'è già a Roma, perché l'Eur è un quartiere che è stato costruito interamente per l'Expo nel 1942, quindi quel tipo di legacy, quel tipo di eredità è chiaro che ci sia. Questo è quello che dobbiamo fare. E poi il 7 settembre, un giorno prima di Arianna, speriamo di consigliare un dossier del quale purtroppo in questo momento non posso parlare. Una nuova nascita, infatti la curiosità immediata sarebbe, ci dà qualche highlights? Non ce li può dare. Allora le chiedo un'altra cosa. Uno glielo do, è bellissimo, è veramente bellissimo. Quindi ci incuriosisce. Una cosa che dice sempre il nostro presidente, che è l'ambasciatore Massolo, è che il contenuto del dossier per sé è già qualcosa che fa avvenire i brividi, è qualcosa che comunque è un progetto, ma è anche un sogno con le gambe, non so come dire. Però mi viene una curiosità un pochino particolare, stiamo vivendo una situazione di stabilità politica. Questo può condizionare la candidatura di Roma Expo 2030? Guardi, la stabilità nel Paese è sempre qualcosa che viene molto molto apprezzato. Nello stesso tempo però, noi siamo lontani dalla votazione. La votazione è il 2023, punto primo. Secondo, abbiamo delle istituzioni con noi, non ce ne tolga il presidente Draghi, che pensiamo che sia un asset per tutti, che sono lì per il lungo periodo. Parlo del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella ha detto all'inaugurazione del nuovo termine alla Fiumicino, auspichiamo l'Expo. E l'ha detto in più di un'occasione. Il sindaco di Roma è altamente, voglio dire, ci sta dentro in un'espressione. E poi, come diceva prima, Livio Vanghetti ci sono i Romani e c'è questa bellissima città che è pronta e si candida ad accogliere milioni di visitatori. E noi ce lo auguriamo davvero, da qui da uno mattino ci auguriamo davvero questo. Ringraziamo Livio Vanghetti, direttore della comunicazione e partnership del Comitato Promotorio.